Fabrizio De Andrè aveva sempre raccontato di essere stato colpito dal mal dei Sardi, di essere rimasto affascinato dalle bellezze e dal mistero di un'isola che aveva frequentato per lavoro e per vacanze. Per questo motivo nel 1976 decide di trasferirsi in Sardegna e compra un casolare nelle campagne di Tempio Pausania. La sera del 27 agosto 1979 Dori sente alcuni rumori all'esterno della casa, va a vedere e non fa in tempo a capire che lei e Fabrizio vengono presi da una banda di rapinatori sardi. Il sequestro dura quasi 4 mesi, vengono tenuti prigionieri in casolari e in tende. Si intavola una lunga trattativa che vede protagonista un sacerdote del posto e un commerciante. Arriva in Sardegna per indagare anche Carlo Alberto Dallachiesa, amico di famiglia. Alla fine, dietro pagamento di un riscatto di 550 milioni, vengono liberati. La banda, composta da una decina di persone, è via via catturata e processata. Fabrizio De Andrè si costituisce parte civile contro gli organizzatori, ma non contro la manovalanza che considera vittime. E questa terribile esperienza gli farà scrivere anche una bellissima canzone come Hotel Supramonte.